non ti ho detto tutta la verità cos'è questa volta pesce 200 tonnellate da dove in giappone pesce radioattivo ora non voglio avere segreti per te devo dire che lei non mi ha mai deluso ho avuto fortuna l'africa il primo produttore al mondo di bambini e bambini serve una cosa in particolare latte ammizioso e spietato c'è un signore là fuori che vuole vedere la cucina che cosa gli devo dire fammelo vedere tutto quello che deve vedere qui davanti a lei o si fida di me o può anche andarsi così quando all'oms scelgono il latte da distribuire nei campi propri non esitano scelgono questo spero di aver puntato sul cavallo giusto questa non è cucina è una guerra perché è morto tra le mie braccia era interessato alla cucina la cucina facciamo il latte senza latte il suo nome non è mercury e non è nemmeno il bra uomo che lei crede noi siamo tutti sacrificabili io l'ho fatto con te stasera bisogno di qualcuno di cui fidarmi ho tutto sotto controllo vendo qualunque cosa a chiunque a per tutto allora ci vediamo mister no non noi